La volontà di avere un suono mio, qualcosa di prettamente mio da portare nel mondo, quindi è un po' un ritorno alla fonte e i bottali sono la fonte del nostro ritmo insieme alla dammurriata, così come la lingua dialettale è un simbolo di appartenenza alle nostre radici. Allora, se è in su, con la C mi viene in mente collaborazioni, perché le tue collaborazioni, ma due su tutte, James Brown, Tina Turner, sono due aneddoti che ho letto che sono molto carini, divertenti, particolari. Ce ne sono molti, ma quelli che hanno diffuso sono, che mi degalò le sue scarpe, per esempio, che io ho utilizzato e ho cercato di conservarmene, ma purtroppo si sorruttano, ogni scarpa diventano un scarpe, compreso noi. E poi quello con Tina Turner che mi avvicinò al buddismo di Lice Nandascioni e che poi ho abbandonato per ritornare cristiano, cattolico, perché ci tenevo a pregare giustamente il rosario e pure qualche devozione dialettale alla Madonna che mi rende più originale. Infatti con la D io ho scelto la parola Dio. La parola Dio è un rapporto di fede, ogni uomo vive questo rapporto costante con la fede, a prescindere dalle religioni si crede profondamente nella vita, come direbbe il poeta kurdo Rafik Sabir, la vita nasce comunque, ovunque, e noi in questo momento storico siamo ancora più legati alla vita.